Allora signor Baudo, io questa sera le voglio presentare una persona che a me piace in maniera particolare, lo posso dire no? Sì, ma anche prima l'hai detto le confronte di Barbarossa. Sì, però quella era un testo, invece qui è proprio mia, la cosa, la sensazione. Questa è la presentazione tua, di cuore. Ed è una ragazza piccola, piccola, minuta, veramente leggera, ma che ha una voce sensazionale. In soli due anni qui a Sanremo ha creato veramente il vuoto intorno a sé. Signori e signore, la campionessa in carica, Giorgia! Eccola qui, Giorgia! Un'usta di gloria e di consensi! Purtroppo non posso, abbiamo già fatto vedere ieri sera l'incidente alla mano destra, quindi soltanto... Dunque, parliamo di questa canzone, Strano è il mio destino, della quale canzone tu sei? Autrice della parte, diciamo, letteraria. Sì, insieme a Maurizio Fabrizio. E quando ci metti il destino c'è niente da fare, vero? Eh, non si può combattere contro il destino. Il destino vince sulle umane volontà. Il destino ti porta dove vuole lui. Qualunque decisione uno prenda, per deviare, per tornare, fare marcia indietro, il destino ti riporta lì dove ha deciso lui. Qui. Qui, appunto a Sanremo. Gianfranco Lombardi dirige l'orchestra, è pronto? Ascoltiamo questa canzone che si intitola, Strano è il mio destino. Giorgia! Ascoltiamo questa canzone. Strano è il mio destino, che mi porta qui. Un passo dal tuo cuore senza arrivare mai. Chiusa nel silenzio sono andata via, via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Strano è il mio destino, mi sorprende qui, qui ferma a non capire dove voglio andare, se tutto quell'amore io l'ho soffiato via. Ma fa male non pensare, ma fa male non pensare a te. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il sangue e le distanze andrò, più vicino a te. Volando al cuore, mi parlerò di me. E restarò per non lasciare, per non lasciare più, per non lasciare più. E' chiaro il mio destino, mi riporta qui, a un passo dal tuo amore. Io ti raggiungerò, proverò a gridare, e forse sentirei la mia voce, che ti chiama se vuoi. Che donna sarò se non sei con me, e se ti amerò ancora di più. Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò, più vicino a te. E volando al cuore, ti parlerò di me. E resterò, per non lasciarti più, per non lasciarti più. Per non lasciarti più, per non lasciarti più. Strano è il mio destino per la voce di Giorgia.